Deve avere dei colori fini, fitti, importanti e di grande pulizia. Poi soprattutto le famiglie aromatiche, i profumi, il bouquet, ci deve inebriare in qualche modo e ci deve dare ricordi emozionali. Poi soprattutto ci deve piacere al palato, deve dare grande signorilità, grande eleganza, raffinatezza e un vino dopo averlo deglutito deve lasciarti una traccia per qualche secondo ancora. Come il sapore di un bacio speciale, quello che sprigiona se la bocca incontra un calice che contiene un gran vino, un rosso conero che conquista o un verdicchio che seduce. Saper riconoscere è importante, specie se la meraviglia in bottiglia arriva da un vigneto di casa nostra. È l'obiettivo del corso Impariamo a conoscere il vino, degustazioni e abbinamenti organizzato da Market, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Ancona che si occupa di internazionalizzazione. Un corso per cui sono ancora aperte le iscrizioni di cinque appuntamenti presso l'agriturismo La Rocca Verde nella frazione anconetana di Candia, più un altro in cantina tenuto dall'ennogastronomo Giuseppe Cristini. Market punta così a valorizzare il prodotto tipico locale e a farlo conoscere e apprezzare. Un percorso per imparare a conoscere il vino attraverso i sensi, come? Diciamo che il mondo del vino è un mondo che prende, comprende un po' tutti i sensi. In realtà c'è un vino che proprio lì ha tutti dentro di sé, penso alle bollicine, penso i francesi sono amanti dello champagne, noi abbiamo nelle marche grandi spumanti, metodo classico. Perché oltre naturalmente all'olfatto, oltre naturalmente alla bellezza del gusto, oltre alla bellezza del visivo, c'è anche quello del tatto, perché poi si viene colto nel palato. Io dico anche deludito, perché il veder gorgogliare, il muoversi le bollicine e poterle sentire mentre si muovono nel calice, quindi ampli a tutti i sensi. Abbiamo messo anche un altro senso, quello emozionale, perché il vino è emozione. Un percorso insomma che insegna anche ad abbinare il vino ai cibi. Sì, è una fase importante, il futuro del consumo del vino è sempre accanto a un piatto, a una ricetta, a un prodotto tipico. Può bastare anche un pane cotto nel forno a legna, un filo d'olio extravergine d'oliva, magari con delle belle bollicine di passerina o di verdicchio. Può bastare anche un piatto unico per sorseggiare un grande vino, però il cibo è assolutamente importante accanto a un calice di vino. In questo corso assaggeremo solo marchigiano, penso da uno spumante di bianchello fino a un pecorino di offida. Un pecorino di offida ovviamente dando grande spazio ai vini della terra anconetana. Non può mancare un conero riserva, naturalmente un lacrima di morro e i grandi verdichi dei castelli di Iesi. Un vino che nella sua versatilità e nella sua poliedricità è unico al mondo. A chi si rivolge il corso? Il corso è aperto a tutti gli appassionati, a chi vuole approfondire la tecnica dell'abbinamento, a chi ama far bella figura con gli amici e anche chi vuole in qualche modo pensare che oggi investire nel vino ha un significato, ma è anche vero che prima di partire bisogna conoscere tutte le sfaccettature di un mondo bello, vasto, complesso, però dico di grande professionalità. Market nasce come azienda che si dedica all'internazionalizzazione dell'azienda. e soprattutto però facendo caso a quello che sono le produzioni agricole, il valore delle produzioni agricole ha voluto aprirsi e dedicarsi a queste produzioni. E quindi il nostro compito in questo momento è quello di valorizzare i nostri prodotti del territorio per farli conoscere all'estero, ma soprattutto partendo dal territorio stesso. Quindi un corso che possa aiutare il consumatore a scegliere, in questo caso un vino, la prossima volta ci dedichiamo all'olio e comunque tutto in abbinamento ai prodotti del territorio ci è sembrata una cosa molto importante, questo anche per aumentare e aiutare i produttori nelle vendite. Il settore dell'enogastronomia è l'unico settore a livello mondiale che tira, soprattutto anche come immagine italiana, come il prodotto italiano nel mondo. Creare una coscienza nel consumatore della validità, della qualità che esiste nelle produzioni locali. e poi dobbiamo essere noi i primi a esportarla direttamente market e indirettamente il consumatore.